Salve a tutti qui è il Mr.Nando che vi parla ed eccoci qui con una nuova puntata del Let's Play su Far Cry 3. Allora, senza indugiare troppo, continuiamo la storia. Eravamo arrivati che dobbiamo concludere la missione sulla caccia. Avevamo raccolto le pelli dei cinghiali e le varie erbe. E ora le dobbiamo portare di nuovo al Necrol, non ricordo come si chiama. Vabbè, non fa niente. Vediamo un po'. Vediamo, in questo studio ci sono degli gli avamposti sono roccaforti sparse per Rook Island. Va se li usa per controllare le zone circostane. Allora, vi spiego cosa è successo. Avevo tentato di registrare, solamente che non mi aveva registrato all'audio. Premendo continuo, ero ripartito dal puto l'altra volta e sono arrivato da quel tizio che non mi ricordo come si chiama. Ora vediamo subito. Personaggi. Ecco, Dennis. Sono tornato da Dennis e mi ha fatto creare delle siringhe di guarigione e lo zaino piccolo. Ora vi farò vedere anche come funziona, eh, come craftarli. Allora, basta andare in preparazione. Allora, qui si preparano i kit medici e ne ho preparati due con le due foglie che avevo raccolto. E qui si preparano le zaino, le fondine per armi, il portafoglio e varie cose. Qui ho creato lo zaino piccolo che può trasportare 72 oggetti. Eh, 32, scusate, e poi inoltre ci ha insegnato come potenziare le nostre abilità. Andando nel menu abilità e cliccando su uno di questi tre animali possiamo decidere di aumentare il tatuaggio. Come vedete adesso l'ho, diciamo, aumentato leggermente. Prima questi segnetti qua non c'erano. Perfetto. Quindi andiamo a combattere. Abbiamo avuto, scusate, una telefonata. Se vi ricordate nel campo durante la fuga abbiamo preso un telefono. Abbiamo avuto una telefonata in cui un pirata ci diceva che stavano per, stavano andando con un ostaggio nel, in un villaggio di Yamanaki. Quindi ci siamo messi in macchina e ci stiamo dirigendo in questo punto. Ok. Va. Per una buona causa prendiamo due piccioni con una pava. Siamo in guerra con Vaas. Sottrarre avamposti ai pirati è vitale per riprenderci l'isola. Se ne riconquistiamo uno la zona diventa sicura. Questo significa spostamenti più veloci e nuove occasioni di renderti un guerriero più forte. Perfetto. Perfetto. Chi c'è sul pick up? Guerrieri Rakhia. I veri Rakhia. Che vivono nel cuore dell'isola. Grazie a Tatao si fideranno di te. Perfetto. Senti, apprezzo il tuo aiuto. Ma io voglio solo salvare Lisa e i miei amici. E il mio fratello. Questo è l'unico modo di rivederli vivi. Sei fuggito dal campo. Sei sopravvissuto. È il momento di lottare. Siamo tutti uguali, Jason. La differenza è tra chi agisce e chi sta fermo. Ok, ce la posso fare. Una volta ero uno straniero come te. Non sei solo, amico mio. Aspettiamo te per iniziare l'attacco. Ok, andiamo. Puoi attaccarli di sorpresa dalla distanza o arrivare di nascosto. A te la scelta. da un munizio. Possono sempre servire. Ok, andiamo. Ok, eccoci qua. Questo è il campo nemico. Io direi di cercare di fare una cosa abbastanza stretta. Con la nostra fotocamera. Vi ricordo che siamo una difficoltà più alta. Ok, qui sono quattro. Cerchiamo di non farci vedere di entrare nell'erba. Baccia. Ok, come vedete, una volta asportati, devi vedere il monte attraverso gli oggetti. Perfetto. Perfetto. Oh, Cristo, tantissimo! Lisa, sono qui! Cucu cucu cucu, caccia. Acqua di merda. Perfetto. Certo che si vede la difficoltà più alta. Lisa, dove sei? Un po' contenuto il giugno. Ok. Una nuova abilità, perfetto. Allora, cosa possiamo fare? Vediamo. Ottima forma, ottima unità di salute. Vabbè, io direi che dato che ci troviamo nella difficoltà massima di potenziare la salute. Quindi subito, senza grigiarlo. Perfetto. Un po' di cacao e un po' di roba che magari possiamo vendere. Un tesoro e quant'altro. Un tesoro. 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 andrà tutto bene sono andati ora sei al sicuro wow tutto questo casino per niente bravo grazie sono commosso abbiamo trovato un tuo amico dal colono il dottore Ernard a Ovest è un posto sicuro non temere il dottore ti sta aspettando a Ovest ti ha detto di che amico si tratta no non me l'ha detto ma continueremo a cercare gli altri se scopro qualcosa ti chiamo via radio va bene cammina testa alta Jason la tribù ti ammira molto addirittura mi sento onorato anche la vediamo un po' ah che cazzo ok che cosa è qua? si può interagire? ok c'è qualcosa qui potete interagire aspetta ah si si può interagire andiamo a ricatto vendiamo qualcosa prima di prendere una uniczione direi di vendere qualche merdata appartimento no preparate e l'800 no ah che bella io un po' mhm fusilli da assalto che cosa abbiamo? in dotazione questo ma non posso silenziarlo non c'è il silenzio non la capino se ci posso attaccare qualcosa nessun accessorio disponibile per quest'anno good is good for me perfetto quindi facciamo usa e mettiamo appassare la capino quindi adesso la bestia perfetto il maledotto che secondo me raccoglie andretti nuovo tutorial ok allora vediamo se abbiamo qualche abilità oddio voglio entrare no i pirati di vaso interessante ah riserabilità ok allora vediamo qua dove dobbiamo andare ok me la mappa dov'è la missione oddio lo sa qua giù ok anzi lo direi di andare prima qua così liberiamo quella zona e prendiamo qualche altra arma le mani ghiacciate 10 minuti vediamo che cosa possiamo fare ancora è poco 10 minuti abbiamo ancora un bel po' di tempo a disposizione perfetto da 700 metri chissà se troviamo mai troviamo mai siccolo seco un autof ricolo seco l'ho la cazzo si è uscita la cazzo si è uscita si faccia un giro tu non 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 il consiglio di se camminate così come me potete seguire un percorso non lo so, quasi quasi 100 anni a minuto vediamo in boh comunque avrei intenzione di fare un let's play su master v3 che avevo installato da colpo, non ci ho mai giocato ho giocato giusto ai 5 minuti e vedo come andava e sinceramente mi pare un benissimo gioco quindi lo devo proporre anche se è un po' vecchiotto come gioco ma fa niente un po' sotto dai mi riusa mi riusa e mi riusa ma medico com or com un minuto ultimo what the fuck ... ... ... ... ... ... curati curati ancora eh cazzo non posso caricare mentre corro ok siamo a 190 metri sembra più che perfetto un po' qui se c'è qualche di uno non c'è nessuno ok sembra perfetto questa bella spiaggia mi metterei quasi a prendere un po' di solo che le dite che le dite fatemi sapere nei commenti se vi piace questa serie se secondo voi c'è qualcosa in particolare che volete ok una pianta sembra un pirata devo salire lì sopra ok ok da che cazzo salve oh buco belli buco ehm ehm vabbè ecco ehm ehm perfetto ok ehm salto l'ho neanche visto ok questa è la nostra seconda continua vediamo un po' come andrà se sarà facile bene se vuoi il gioco lo sappiamo ok ok mettiamo qua ok sale sale perfetto perchè perfetto perchè dobbiamo scendere scendiamo scendiamo ehm ehm giro giro tondo ah che idiota che idiota che sfumato ehm di diozia pura passati perfetto sono arrivati ehm dai ragazzi farì sali 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 ok 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 allora perfetto e lì allora allora ragazzi per questa puntata è tutto io vi aspetto alla prossima puntata qui di Far Cry 3 del nostro let's play di Far Cry 3 e alla primissima puntata di Mass Effect 3 che arriverà fra poco quindi io vi saluto vi ricordo di scrivervi di commentare e mettervi un viaggio video mi stia mando 993 è tutto alla prossima e arrivederci